E' un messaggio importante, un monito fondamentale quello che lancia Papa Francesco, Sua Santità, il Vicario di Cristo. Infatti va a esortare tutti a seguire la guida dei più piccoli nell'andare ad affrontare la sfida climatica e non soltanto. Francesco, Sua Santità, Papa Bergoglio spiega come le crisi siano anche le finestre di una grande opportunità da cui può nascere, diciamo così, qualcosa in più per andare a riconoscere e andare quindi ad imparare quelli che possono essere stati gli errori del passato. E' ciò di cui lui stesso parla nel testo inedito, prefazione al libro Laudato Si Reader, è scritto Laudato Si Reader. Il passato recente ci mostra che sono soprattutto i bambini, i nostri bambini, i nostri figli, ad avere compreso la portata, l'enormità delle sfide che la società ci mette davanti. Soprattutto la crisi climatica che stiamo vivendo, dobbiamo seguire la loro guida, la guida dei nostri figli, la guida delle persone che noi stessi abbiamo messo al mondo. Ed è bisogna, e bisogna quindi, agire tutti insieme, coadiuandoci, coadiuandosi tutti, nessuno, escluso. Bene, vi ringrazio per l'ascolto, per la visione di questo video di oggi, iscrivetevi al canale Narratore Italiano, commentate e buona domenica a tutti.